Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono sempre io e il vostro caro Francesco Se si vede, ok Sono sempre il vostro caro Francesco Ed oggi siamo ad un nuovo vlog Ragazzi, diciamo che l'altro ieri, se non mi sbaglio Se non mi sbaglio, guardate Se non mi sbaglio Doveva uscire la big sorpresa Ma è stata rimandata La big sorpresa sarà fatta se è possibile Domani pomeriggio Se magari non tengo da fare con i compiti Ehm Beh, se qualcosa viene andato storto Allora lo posso tranquillamente Cioè, lo possiamo andare alla settimana prossima Perché ragazzi Sapete che io, ve l'ho già detto in parecchi video Cioè no, in uno solo, nel mio primo video del canale Che ci impiego veramente tanto A fare video se non mi sbaglio Quello l'ho detto al secondo Vabbè No, l'ho detto a quello là di Left 4 Dead Vabbè, di preciso in un video Ecco In un video Ho detto così Perché ragazzi Ehm, il tempo Quando le pile dell'Xbox si scaricano Ehm, allora io uso questo Cioè Non è che devo comprare le pile e roba simile Cioè ragazzi È tutto il contrario Cioè, invece di comprare le pile Te ne compri quattro E due vanno messe qua dentro E due vanno messe nel joystick Capite? Ehm, fate caso Ehm, se sentite tipo una canzone di sottofondo Mia nonna Vabbè Ma io che non mi racconto Perché no, sapete A lei gli piacciono queste canzoni qua Ehm Ragazzi Sentite Non fate caso alla musica Guarda Questo l'ho già detto A quanto stiamo? Siamo a due minuti Allora In questi giorni ragazzi Volevo dire questa cosa I vlog dureranno poco A caso No, no Non è vero Scherzavo ragazzi A caso no Perché Perché i video dureranno I vlog dureranno poco Perché Innanzitutto Io frequento un dopo scuola E quindi Sta arrivando il giorno In cui devo iniziare a fare i compiti Secondo Sta per ricominciare la scuola Quindi i compiti Me li sto facendo pure qua a casa E quindi il tempo di registrare Non ce l'ho proprio Neanche due secondi Ehm Terzo Io Non Cioè Per esempio Adesso sono arrivato a due iscritti Prima ce ne avevo uno solo Adesso ne ho due E sono più contenta di averne due Che uno Ragazzi Perché Cioè Il canale Per tutti quanti E sa come Come è sacro Agli altri Cioè Perché Per esempio Qualcuno di voi Io Cioè Qualcuno di voi Che mi segue C'ha un canale Un canale su youtube No Se non ce l'ha Se lo faccia E si E si E si E si E veda Perché se lo deve fare Perché Apri un canale su youtube Lo dovete fare col cuore Non Non dovete farlo Con Con la Con la schifezza Così Cioè Cioè Dovete farlo Col cuore Non dovete farlo Perché vi Perché vi Perché Dovete farlo Per forza Perché ve l'ha detto qualcuno Perché Perché siete obbligati A A farlo No ragazzi Voi dovete aprire Un canale su youtube Col cuore Essere felici Dei Dei Ehm Degli iscritti Cioè Non è che è successo Qualcosa di male Ma vi sto raccontando Questo perché Cosa mai qualcuno Che mi segue Potrebbe aprire un canale Su youtube E gli sto già dicendo Come Come ci si sente Ad aprire un canale Su youtube Ragazzi Quindi Ehm Nel frattempo Ehm Io Mi volevo già preparare Tutto quanto Per registrare Poi Magari Ci sarà Ehm Non lo so La big sorpresa Non ho ancora deciso Quale sarà La big sorpresa Ma Lo scoprirete Molto presto A proposito ragazzi E' uscito The Sims 4 Però Ovviamente Io non lo farò Ma non è quella La sorpresa No 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 Sul 6 Non è quella La sorpresa A parte che Non l'ho comprato Perché costa Un casino Di soldi Quindi E' una Cioè Sono stato impedito Nel comprarlo Nel senso Che Ehm E' uscito Pure GTA 5 Per Playstation 4 Io tengo Per Playstation 3 Xbox 360 Ehm Bene Ehm 74 euro Come ho letto Da GameStop Che saluto molto Alla sua rubrica Ehm Ho letto così Ehm Cioè Ho detto io Cazzo Ma tutti questi soldi Non Cioè Non è possibile Io Non Non lo comprerei Se è così In quelle persone A punto che Non l'ho comprato Perché a parte Tengo Un casino Di roba Cioè Tengo L'Xbox E la Playstation 3 Cioè Non c'è verso Si può avere Cioè La Playstation 4 A parte che Mi piace un po' La Playstation 4 Però i giochi Ci vuole Il banco di Napoli Per farli Quindi Vabbè Però ragazzi Non consigliatemi Assolutamente Cioè No io vi do un consiglio Che non mi dovete Consigliare Assolutamente Non me li dovete Consigliare Non mi consigliate I giochi per la Playstation 4 Ecco A breve alla cosa Perché non Non vi riesco A spiegarmi Non me li consigliate O Playstation 3 O PC Oppure Xbox 360 Solo questi Mi dovete consigliare Io Playstation 4 Non so E manco Come si Schiaccia il tasto Ragazzi Cioè Ah poi Volevo salutare Uno youtuber Speciale Chiamato Favij Se non lo conoscete Iscrivetevi al suo canale Perché è Fortissimo Un abbraccione A Favij Naturalmente Anche A Ditto Che veramente Anche lui Iscrivetevi anche Al suo canale Perché è fantastico Un saluto A voi due Bene Bene ragazzi Devo tricare un secondo Perché vi devo far vedere Una cosa Perché vi ho fatto Vedere questo Perché questo Rappresenta Perché questo Rappresenta Tutto quello Che mi ha aiutato Per registrare I video Di Left 4 Dead Sono in Left 4 Dead Praticamente E mi ha aiutato Anche a registrare GTA 5 Ragazzi Quindi senza di lui Dobbiamo ringraziare lui Perché lui Perché lui Ci ha aiutato In tutto questo tempo E che adesso Mi sa proprio Che ha bisogno Di riposare E quindi ragazzi Per due giorni Video No Perché lui Ha bisogno Di riposare Scherzo Scherzo ragazzi Non preoccupate Video a volontà Non lo so Vabbè Io dico così Poi non usciranno video Ci scommetto a 100 euro Io dico così E non compaiono video Dico così Non parlo Vabbè Quanto stiamo? Siamo A 8 minuti Bene ragazzi Questo video è uscito Proprio a lungo Perché ho Prima fatto i compiti Tutti quanti Velocemente E poi ho registrato Non ve l'ho detto Perché io sono Forbacchione Va bene Ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un like Commentate Iscrivetevi al canale E ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti